70 buyers da tutto il mondo che incontreranno circa 90 operatori turistici e poi i tour experience in 7 itinerari dalla Downy al Salem, oltre un centinaio di appuntamenti in 8 sale, conferenze e una decina di aree tematiche con la presenza di oltre 400 relatori e tavoli di confronto, formazione, workshop e approfondimento sulle opportunità e sugli scenari legati al settore. La Puglia si propone come terzo polo italiano per i professionisti del turismo. Dopo la prima esperienza positiva dello scorso anno, l'ottava edizione del BAI Puglia e la decima di BTM Italia Business Tourism Management tornano insieme in Fiera dell'Evante a Bari dal 27 al 29 febbraio prossimi. I due appuntamenti condivideranno ancora una volta con l'industria turistica l'energia propulsiva che proviene dalla sinergia fra pubblico e privato con un'azione rivolta a buyer internazionali e italiani, operatori, enti pubblici e privati, comunità ospitanti e aziende attente alla formazione. Un'occasione importante per continuare a parlare di turismo dopo il grande successo della BIT a Milano. Parleremo ovviamente di formazione, di accompagnamento al lavoro, parleremo di qualità del turismo, parleremo delle nostre scuole, dei nostri ITS, insomma parleremo di accompagnamento al lavoro e di formazione, di alta formazione. Questi sono i temi fondamentali che il turismo ovviamente deve affrontare.